Eccomi, siamo live per questa maratona su GCP Day, spero che questi eventi organizzati da formazione farmaceutica siano di vostro interesse. Nel frattempo avvio anche il webinar su GoToWebinar, purtroppo abbiamo raggiunto il numero massimo di partecipanti, ragione per cui non possiamo permettere a tutti che siano sulla piattaforma GoToWebinar e quindi abbiamo creato questo piano B, per intenderci. Vado già in condivisione dello schermo, così da... ok, no, vogliamo l'altro schermo. A questo futuro inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Eccomi, benvenuti al GCP Day. Stiamo in contemporanea, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Formazione Farmaceutico, siamo in diretta sulla pagina YouTube di Formazione Farmaceutico e anche per chi è in diretta con noi su GoToWebinar, siamo in pratica su diversi canali. Proprio direi, più che a causa, direi grazie al forte interesse che c'è stato in questa iniziativa del GCP Day 2020. Intanto, benvenuti ufficialmente a questo evento. Vi chiedo gentilmente di farmi sapere se tutto va bene, se mi ascoltate, se ci sono delle domande. Ah, benissimo. Mi dicono che non si sente. Mi confermate? Ah, ok, si sente. Grazie Sabrina. Ok, perfetto, perfetto. Grazie, grazie anche Sara. Perfetto. Allora, ecco, il punto è giusto per chi... Premetto che per tutti sarà rilasciato un certificato di partecipazione. Ovviamente mi confido nella vostra sedetà professionale nel partecipare all'intero webinar perché generalmente su GoToWebinar possiamo tracciare anche la vostra presenza mentre sulle altre piattaforme ovviamente no. Allora, il punto è che prego chi è del settore a rimanere su GoToWebinar proprio perché chi magari è interessato a eventualmente fare domande eccetera a rimanere su GoToWebinar. Altrimenti vi invito a seguire il tutto sulla piattaforma su YouTube o sulla pagina Facebook sul canale, quindi YouTube di formazione nel farmaceutico o sulla pagina Facebook di formazione nel farmaceutico. Ripeto, in ogni caso sarà rilasciato il certificato però essenzialmente ecco, preferirei che il personale visto che questo corso è essenzialmente improntato anche per gli addetti, soprattutto per gli addetti ai lavori visto che inevitabilmente dovrò dare qualcosa per scontato visto che alla fine non possiamo trattare l'intera ricerca clinica in un webinar di 90 minuti che penso sia il tempo necessario per trattare gli argomenti di questa giornata. Quindi questo training sarà dritto al punto visto che ci sono un bel po' di medici, di study coordinator e davvero questa giornata è dedicata a loro. Poi vedremo, ci saranno altre manifestazioni ci sono altri videocorsi già presenti su formazione nel farmaceutico per chi vuole entrare nel mondo della ricerca clinica oppure per chi è già nel settore e vuole approfondire e migliorare soprattutto le proprie competenze nella ricerca clinica. Allora chiedo gentilmente a chi di darmi l'ok che sono sia su Facebook, su YouTube e su... cioè che comunque si sente bene e che non c'è nessun problema. Alessio grazie mi conferma intanto che è tutto ok Ok grazie Elisabetta per confermarmi che è tutto ok in piattaforma se qualcuno mi può fare un check anche sulla piattaforma su YouTube Ah, giustamente prima di fare tutto ciò dovrò anche condividere lo schermo giustamente su... vediamo se... share screen ok ecco togliamo questo qui e diciamo che vogliamo condividere questo schermo come dico no? questa è una competenza molto importante nella ricerca clinica cioè il trovare sempre un piano B il piano A era purtroppo non siamo riusciti a permettere a un maggior numero di partecipanti sulla piattaforma quindi questo penso spero sia un bel piano B per permettere davvero a tutti di essere presenti e festeggiare insieme questa giornata delle GCP Allora, iniziamo come da questa slide di benvenuto oggi alle 15 quindi iniziamo con il training GCP R2 e alle 17 sempre su... all'indirizzo possibile al momento anche lì abbiamo un bel po' di partecipanti oltre 100 però non mi aspetto ecco di averne 220 come erano registrati oggi qui sul GCP Training c'è un altro... ma se questo test funziona andremo in streaming anche su Facebook e YouTube e all'ora 17 ci sarà appunto un training forse per la prima volta in italiano IATA Training il training IATA è quello per intenderci che serve per dimostrare che chi impacchetta i campioni biologici per il materiale per i campioni biologici da spedire per i travel clinici abbia le competenze minime per poterlo fare con questo task quindi generalmente dedicato a study coordinator study nurse o anche sperimentatori dopodiché alle ore 19 la storia della ricerca clinica dal 3000 a.C. ai giorni nostri in questo progetto ho coinvolto quindi nell'IATA Training ho coinvolto la dottoressa Mariana Lomiento mentre per la storia della ricerca clinica ho coinvolto i neodiplomati del corso Clinical Research School che così entusiasti hanno accettato la sfida di metterci in prima metterci la faccia ecco e andare in diretta con me e raccontare la storia della ricerca clinica visto che ne abbiamo parlato ecco durante il durante il il corso novità c'è un nuovo canale è un canale Telegram riservato a tutti coloro che sono interessati al mondo della della formazione nel settore farmaceutico quindi iscriviti cerca sul Telegram io uso molto Telegram è veramente un'applicazione molto interessante per condividere notizie veramente in maniera istantanea e cercate formazione nel farmaceutico nulla di 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 così ovvio ecco cercate formazione nel farmaceutico tutto attaccato intanto buongiorno anche a te Deborah allora il come avete visto c'è la possibilità per chi è in diretta su GoTo GoToWebinar di fare delle domande in prima persona per chi fa delle domande su su Facebook purtroppo non riesco a o su YouTube non riesco a vedere anche queste però vi invito a cioè molto probabilmente al momento giusto Luca Giordano che è qui con me in diretta magari può dare un'occhiata a qualche domanda e e dirmi se appunto è leggerla va bene Luca? fammi sapere ok perfetto grazie Luca ok perfetto allora io direi di iniziare ci siamo siamo davvero in tanti vedo anche sui social ci sono diversi in diretta iniziamo subito con il ecco formazione farmaceutico cercate formazione farmaceutico su su Telegram iniziamo con questo training anche questo ho visto nel frattempo c'è qualche altro training gratuito in Italia disponibile per gli addetti ai lavori da da qualche da qualche tempo siamo sul sito web del Transcelerate proprio per perché per dimostrare di essere compianti con i requirement richiesti dal dal consorzio ma comunque ne parleremo dopo io direi di iniziare un'informazione di servizio per accedere su formazione farmaceutico non utilizzate Internet Explorer non funziona piuttosto funzionano meglio Chrome o Firefox e completa la survey a fine trasmissione ci sarà una survey finale davvero molto breve vi chiedo di completarla perché per noi è molto importante la pagina si aprirà automaticamente una volta terminato il webinar mentre per chi è in diretta per chi è in diretta su per chi segue il training direttamente su formazione farmaceutico punto com ci sarà una schermata successiva a questa in cui si potrà dare un feedback ecco mi presento ho visto che diversi nomi diversi nomi che non conosco il mio nome è Stefano la Gravinese mi occupo di ricerca clinica ormai da 15 anni e ho iniziato dopo la laurea in biotecnologie mediche presso l'università di Modena ho iniziato un dottorato di ricerca presso l'ISBEM qui a Mesagne dove poi ho fondato la mia società con l'università di Pisa e dopo di che dopo questa esperienza di dottorato di ricerca e di CRA perché già ho iniziato a lavorare proprio come CRA all'interno di questo progetto ho iniziato a lavorare in diverse multinazionali CRO multinazionali come per esempio Icon Worldwide Clinical Trials e in tutto ciò nel 2008 ho fondato cereasecrets.com quello che è il sito ormai di riferimento per chi ecco è interessato alla ricerca clinica o chi già ci lavora nel panorama italiano ormai con 11 anni di storia direi che lo posso dire tranquillamente dopodiché ecco ho scritto un ebook diventare CRA che ha aperto un po' le porte ad un altro filone della mia vita ecco cioè quello della formazione in quanto appunto molti degli acquirenti di questo ebook mi chiedevano ok non voglio fare un master come posso acquisire delle competenze spendibili nel mondo della ricerca clinica e da lì assieme alla CRO di Bologna e Ghia è nato nel 2013 il corso di alta formazione missione CRA dopodiché ho iniziato la mia attività la mia avventura come freelance e a fine 2016 è nata la piattaforma dove mi troverete assieme ad altri 4.000 di voi arriviamo da qualche giorno arriveremo a 4.000 iscritti dove potete trovare diversi corsi tra cui anche questo dal 2017 mi occupo anche di fase 1 aiutando i centri sperimentali nel ottenere requisiti del richieste della data in AIFA 809 del 2016 e infine da qualche mese ormai però tra un po' arriveremo a un anno sono il direttore scientifico della CRO Cleanot Sub bene spero di ecco allora ecco Samantha Santina scusa che chiede nel frattempo vorrei sapere come fare a fare il training IATA ecco ti rispondo subito in diretta se vai su iatatraining.it potrai iscriverti alla diretta che ci sarà tra qualche qualche ora sempre su questa piattaforma questo vale anche in futuro ecco nel momento in cui andrete su gcptraining.it o iatatraining.it troverete questo su gcptraining questo videocorso e su iatatraining il training IATA tutti ovviamente vanno poi a finire su formazione farmaceutico cioè questi siti sono giusto come per vos una più facile memorizzazione per intenderci ok quindi vi ho detto che al 17 c'è lo iatatraining e al 19 la storia della ricerca clinica dal 3000 avanti Cristo ad oggi assieme ai corsisti della clinical research school ricordo ancora il canale telegram formazione farmaceutico e dopodiché direi che possiamo possiamo andare allora altra informazione di servizio ecco cos'è cos'è formazione farmaceutico formazione farmaceutico è una piattaforma di learning che ad oggi conta quasi 4000 iscritti e con questi tre corsi videocorsi in programma oggi arriviamo veramente e con mio grande soddisfazione a oltre no a esattamente 100 videocorsi pubblicati e per me è una gioia poter vedere che ogni giorno forse anche centinaia di persone sono sulla piattaforma a formarsi ad acquisire competenze a migliorare le proprie competenze grazie ovviamente alla tecnologia quindi alla condivisione di alcune della conoscenza in alcuni casi questi corsi sono gratuiti in altri casi sono a pagamento però di fatto è una condivisione pura di quello che è il know-how in alcuni casi mio ma molto spesso di altri esperti del settore quindi appunto vi invito a fare un giro su formazione farmaceutico punto com perché lì trovate davvero tanti corsi interessanti poi ve ne racconterò qualcuno più tardi da un paio di anni ormai c'è questa clinical research academy un'academy dedicata a chi lavora nel settore e il target è chi lavora nel CRO nelle fondazioni negli ospedali presso di sponsor o freelance ecco che vogliono acquisire le proprie competenze o al più corsisti i miei corsisti che fanno il missione CRO e che poi vogliono continuare a approfondire le proprie competenze andiamo avanti vorrei intanto ecco già che ci siamo mi permetterete di presentarvi anche i servizi della della CRO in Opsab essenzialmente come vi dicevo prima ci focalità dei centri sperimentali soprattutto per la fase 1 ora in realtà vogliamo partire anche con un progetto un'academy dedicato ai centri sperimentali visto che per fare fase 1 occorre un piano formativo un po' come quello che occorre nelle CRO quindi l'idea è di partire a breve con un'academy per i centri sperimentali e altra attività che facciamo è il supporto ai centri per il patient recruitment questo è il mio fantastico team senza il quale non avrei voluto fare nulla oggi quindi veramente grazie a tutti grazie a Giorgia Datteri la QA della CRO Luca Giordano il referente anche dell'academy Valeria Scoditti referente della realizzata sulla fase 1 e la new entry Antonella Saponaro che si occupa invece della parte social e dell'amministrazione grazie davvero ragazzi veramente senza di voi non sarei qui oggi a fare questa festa sulle GCP allora siamo arrivati al primo sondaggio e ecco si inizia si inizia Maglio siamo arrivati allora il il primo sondaggio che vi chiedo anche per calibrare un attimo il 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 linguaggio di questo di questo training è per quale per quale in quale contesto lavori partecipare è molto facile basta basta indicare il il numero cioè cliccare su quello che sulla risposta che più vi si vi si addice ecco ovviamente chi è in diretta sui social non potrà partecipare a questo sondaggio ecco direi che interrompo il il sondaggio visto che no al momento il 50% aspetta ancora un po' come di consueto ehm come di consueto condivido i risultati proprio per magari anche condividere cioè discutere assieme vale a dire il il 18 di voi per cento di voi lavora per Ciro e lo sponsor 5% come medico in ospedale e come sperimentatore 28% benissimo come study coordinator o study nurse 11% altro nella ricerca clinica e quasi 40% altro non nella ricerca clinica eh Sara eh sì va bene non ti preoccupare dice non riesco come faccio a rispondere quando non riuscite eventualmente commentate ecco eh così da da dare il vostro contributo allora eh grazie e eh direi che possiamo entrare nel vivo della questione quindi parliamo di GCP eh parleremo ecco di un l'agenda del corso prevede un quadro sintetico sulle good clinical practice i principi delle GCP e questo corso come anticipato è focalizzato sulle responsabilità dello sperimentatore ecco una premessa come vi dicevo questo training soddisfa i requisiti minimi del consorzio Transcelerate che è un un consorzio no profit diciamo del big pharma eh con il quale il cui obiettivo è quello di essere come dire armonizzare quella che è la ricerca clinica eh quindi lo sviluppo di nuovi di nuovi farmaci eh è senza scopo di lucro e appunto come dicevo facilita l'erogazione l'erogazione di nuovi farmaci in modo efficace efficiente e di alta qualità e lo scopo è anche quello di fare ponte tra ricerca farmaceutica e paziente oltre che chiaramente migliorare la salute quindi eh a fine a fine corso potete scaricare un un certificato che è esattamente questo e ci sarà il vostro nome e cognome eh sarà automatico e lo potete scaricare dalla piattaforma formazione farmaceutico così quindi eh quando questo videocorso sarà pronto lo potrete anche consigliare ai vostri colleghi inviandoli su gcptraining.it altro sondaggio prima di eh di iniziare e cioè eh questo è un modo anche per coinvolgere tra virgolette l'audience ecco quindi Sara in questo caso eh ti invito a a dirmi ecco se eh se conosce chi la domanda è conosci già le gcp eh o comunque hai mai sentito parlare di gcp ok grazie Sara le basi ecco all'altra Sara dice sì le basi ok bene grazie a Chiara che dice la terza bene grazie bene Alessandro dice ho anche seguito uno più training ecco per chi ci segue da Facebook eh è questo il il sondaggio ora lo chiudo e eh condivido i risultati come di consueto allora il il 4% dice di no ok questo mi piace eh cioè su 100 partecipanti eh 4% soltanto dice di non aver mai sentito parlare di gcp quasi 40% giusto le basi 33% ha anche seguito uno o più training a riguardo e 24% eh qui mi conforta dice di che sono il il pane quotidiano il loro pane quotidiano benissimo e eh un altro e ultimo sondaggio di oggi è questo giusto anche per capire allora sia che tu sia eh un medico uno study coordinator un CRA un grosso modo mi piacerebbe capire quanti studi clinici segui al momento giusto anche per avere un'idea della vostra no? quanto su quanto siete sul pezzo ecco meno di cinque dice Sara quattro Chiara tra cinque e dieci Silvia wow quindi presumo cioè spero che sia una study coordinator eh non un CRA perché sennò diventa eh ok ah infatti mi conferma bene chiudo il sondaggio e eh entriamo nel vivo del del nostro training nel frattempo ne approfitto per bere un po' quindi più di dieci il sedici per cento tra eh cinque e dieci il quindici per cento ventiquattro per cento meno di cinque e quarantacinque per cento come no? consistente con quel quarantacinque per cento che non ha non fa non si occupa di ricerca clinica non segue eh alcun trial clinico benissimo allora direi che siamo arrivati al topic della giornata e eh intanto il il ecco una proprio per il GCP Day abbiamo previsto una una promozione qui abbiamo ormai da da un paio dal 2018 forse pubblichiamo questo questo libro si chiama le normative della ricerca clinica eh chi lo acquista fino a fine a fine ehm mese quindi l'intero mese di maggio avrà eh a casa sempre perché sono dei libri fisici questi riceverà anche le GCP tascabili eh molto comode per per poter sempre confrontarsi ecco eh con quella che io chiamo la Bibbia del del CRA e dello stadio di cordinietro quindi in omaggio quest'altro libricino per chi acquista eh il 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 libro delle normative fino al a fine mese magari poi Luca se vuoi inviare il link eh o lo inserisci già nel nel nell'email automatica a fine corso eh bene allora le ICH cosa sono le ICH? ecco eh sono queste GCP fanno parte delle delle ICH cioè ovvero che è successo nel ora ne parleremo un po' meglio anche probabilmente anche durante il durante il il corso sulla storia della ricerca clinica se ne parla molto meglio eh gli Stati Uniti d'America eh Europa e Giappone si riuniscono per standardizzare in questo concilio dell'International Conference on Harmonization si riuniscono in questo concilio per ehm essenzialmente ehm occuparsi di standardizzare tutto ciò che ha a che fare con ehm gli aspetti scientifici eh e in in primo luogo chiaramente eh per le la la registrazione di prodotti farmaceutici quindi sotto all'indirizzo ICH.org troverete tutte le ICH sono divise per categoria sicurezza efficacia qualità e multidisciplinarità e ovviamente le nostre GCP rientrano nel capitolo dell'efficacia in quanto l'area dell'efficacia riguarda il disegno la conduzione la sicurezza e la segnalazione degli studi clinici vi invito davvero ad andare su ICH.org l'abbiamo fatto con i corsisti della della school è stata una bellissima esperienza approfondire e leggersi queste queste linee guida che spiegano davvero tutto per avere una big picture di quello che è la ricerca clinica le ICH E6 quindi quelle che in inglese si chiamano ICH E6 sono le good clinical practice cioè quelle che attualmente tutti quanti noi utilizziamo per la conduzione degli studi clinici e quindi cosa sono queste ICH sono degli standard di una sperimentazione clinica riguardano le fasi del disegno conduzione e prestazioni monitoraggio analisi comunicazione e ovviamente servono ad assicurare che appunto i dati siano affidabili e accurati e i diritti dei soggetti siano salvaguardati attenzione perché queste slide ovviamente per ricevere il questionario finale dovrete fare un test e ovviamente le domande saranno pertinenti con con quanto detto qui oggi durante questo questo videocorso perché queste good clinical practice ecco una breve storia non so quanti di voi sono andati mai in un campo in uno degli ex campi di concentramento di sterminio io ci sono stato qualche anno fa a Dachau e questa è un'esperienza ovviamente disarmante e proprio da lì direi il perché nasce proprio da lì se proprio vogliamo iniziare con il perché le tante sperimentazioni fatte su ebrei deportati zingari e chi più ne ha più ne metta prigionieri politici eccetera sono stati poi la base per lo sviluppo ecco del documento noto come codice il decreto ministeriale del 15 luglio del 97 come allegato uno a questo decreto ministeriale dopo qualche anno giustamente direi anche dato il cambiamento della situazione a livello mondiale la tecnologia è cambiata parecchio e quindi si è finalmente pubblicata una nuova una revisione 2 la cosiddetta step 5 2017 allora quindi su cosa si focalizzano le GCP le nuove GCP veramente a me fa un focus particolare sulla responsabilità e sulle aspettative di tutti i partecipanti pure l'imaging prima fra tutti mi viene in mente non so ora sto seguendo un trial sulla colituccia rosa quindi c'è una revisione dell'imaging del video della 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 colonoscopia oppure le CG machine che viene fornita gratuitamente per standardizzare i dati insomma sono davvero tanti questi vendor e sono ormai parte integrante della del centro della vita del centro sperimentale ancora il centro sperimentale qui per semplificare ho parlato di ospedale può essere anche un policlinico può essere un IRCS eccetera quindi il centro sperimentale si relazionerà anche con la propria unità a contratti con il comitato etico ovviamente può anche non essere nel proprio ospedale il comitato etico con i vari reparti dell'imaging con il laboratorio anatomia patologica farmacia ospedaliera ufficio di ricerca clinica ormai sono sempre più abbondanti questi uffici di ricerca clinica e l'ufficio qualità quindi questo è una panoramica del centro sperimentale con chi si può interfacciare non dimentichiamo ovviamente anche AIFA che con i suoi ispettori può ispezionare il centro sperimentale quindi lì c'è anche opportunità di interfacciarsi anche con AIFA bene parliamo di responsabilità dello sperimentatore quindi ovviamente lo sperimentatore ha la responsabilità della buona conduzione dello studio di aderire alle GCP di cui stiamo parlando e di come dire avere una lista di personale qualificato e delegato di permettere monitoraggi esterni poi ne parleremo e ovviamente ha la responsabilità anche di avere una conoscenza approfondita di materiali e metodi parleremo anche di questo oltre a una formazione ed esperienza idonei quindi quali sono questi controlli questi monitoraggi che a cui il centro sperimentale deve garantire l'accesso sono i monitoraggi vale a dire una supervisione dello studio per aderenza al protocollo procedure operative standard eccetera audit che generalmente vengono fatti da sponsor o dalle CRO in base agli accordi che hanno gli uni con gli altri e sono dei controlli sistematici indipendenti sulle attività per dalle attività per aderenza al protocollo cioè per capire se essenzialmente la sperimentazione aderisce veramente al protocollo alle SOP alle GCP e le normative applicabili e infine ultimo ma non per ultimo anzi direi anche il più temuto sono le ispezioni fatte dalle autorità regolatorie quindi AIFA FDA EMA eccetera che essenzialmente sono delle revisioni appunto di documenti effettuate per i centri sperimentali sponsor e anche CRO chi fa queste attività il CRO fa i monitoraggi l'auditor fa gli audit e per in Italia per poter fare audit occorre essere compianti con il decreto ministeriale del 15 novembre 2011 idem stesso discorso per il CRA e l'ispettore appunto fa le ispezioni molto spesso sento dagli addetti ai lavori dire che non so un auditor fa le ispezioni o l'ispettore fa gli audit no assolutamente no gli audit sono fatti dagli auditor in italiano il termine audit o audit se vogliamo utilizzare l'accezione latina ecco è chiamata verifica che è appunto quello è una verifica sistematica ecco dei processi allora ecco l'investigator ovvero lo sperimentatore deve assicurare che e questo noi noi CRO lo valutiamo durante per esempio la testadi o anche durante le varie viste che facciamo al centro sperimentale cioè noi dobbiamo appurare e quindi il medico deve garantire un potenziale numero di pazienti in quelle in quel lasso di tempo previsto dal protocollo deve garantire che lo staff sia adeguatamente formato e qualificato e quindi qualificato ma anche abbia un sia un numero adeguato per poter sviluppare e portare avanti la sperimentazione e abbia le strutture adeguate ecco ovviamente le nuove GCP anche evidenziano questo discorso della supervisione anche dei compiti delegati e infatti nell'addendum si parla anche del del fatto che l'investigator il principal investigator deve essere anche il supervisore responsabile anche nel caso in cui ci siano dei fornitori di servizi terzi ora con la pandemia del covid infatti anche AIFA ha dato derog a questo a per esempio identificare dei 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 corrieri che possano spedire il farmaco a casa dei pazienti oppure società specializzate per le cosiddette home visit ovviamente tutto ciò deve essere la responsabilità è sempre in mano al principal investigator che deve assicurarsi e capire se sono qualificati e le procedure se sono integrate con quelle del centro clinico quindi ovviamente oltre allo sperimentatore principale abbiamo il cosiddetto sub investigator e entrambi sono responsabili delle decisioni mediche in Italia devono essere necessariamente dei medici e assicurano assistenza medica per eventi avversi e le deviazioni eventualmente dalle normalità degli esami di laboratorio informano il medico curante in accordo col paziente perché ripeto questa è una cosa importante il paziente deve consentire al fatto che il proprio medico curante sia informato del fatto che lui o lei stia partecipando alla sperimentazione clinica quindi quando parliamo di pazienti quindi non di soggetti sani questo cambia infatti per la fase 1 su soggetti su volontari sani i volontari sani devono obbligatoriamente informare il proprio medico curante se stanno partecipando ad una fase 1 quindi con dei rischi potenzialmente più più grandi e anche il loro dovere tra virgolette anche capire quali sono le ragioni dell'abbandono eventuale dello studio da parte di un soggetto ovviamente per capire appunto quali possono essere le motivazioni ma senza come dire obbligarlo a rimanere all'interno del trial ancora dicevamo prima lo sperimentatore deve interagire con il comunitato etico in Italia ci sono i comunitati etici che sono commissioni indipendenti costituite da medici membri scientifici e non scientifici per riassumere responsabili di garantire la tutela dei diritti della sicurezza e del benessere dei soggetti che prendono parte di uno studio quindi il medico deve interagire con loro molto spesso c'è la CRO lo sponsor che fa il lavoro per conto del medico però di fatto deve essere coinvolto il medico e quindi prima dello studio le DCP dicono che occorre inviare una serie di documenti non prendetevi il tempo di leggerli però ecco è importante che il comitato etico rilasci un'approvazione scritta e datata necessaria per iniziare la sperimentazione quindi in soldoni occorre che il medico prima di partire realmente sia accerti che il comitato etico approvi la sperimentazione e l'autorità competente quindi AIFA autorizzi la sperimentazione in corso di studio lo sperimentatore deve inviare anche in questo caso molto spesso se ne occupa la CRO o lo sponsor comunque aggiornamenti dell'investigator's brochure almeno una volta l'anno l'IB va aggiornata oppure eventuali revisioni di altri documenti non so ci sono delle modifiche che necessitano l'approvazione o comunque il parere favorevole da parte dei vari comitati quindi il comitato etico deve approvare questi documenti nuovi ecco a proposito di aderenza al protocollo questo è importante su questo lo vorrei davvero stressare tanto visto che nella mia esperienza ecco ho visto tante volte firmare i vari documenti che i CRA fanno firmare in sede di SIV molto più frequentemente o prestadi o in altre in altre occasioni durante le viste del monitoraggio eccetera il centro firmando cioè firma assieme allo sponsor un contratto dopodiché si impegna anche a condurre lo studio in conformità al protocollo e qui vi ho messo una cosiddetta protocol signature page giusto per ricordarvi questo questo piccolo dettaglio questo è uno dei tanti protocolli ormai pubblici autorizzati dall'AIFA sul covid con i ragazzi della school abbiamo lavorato tanto su questo tipo di protocolli proprio per toccare con mano la ricerca clinica e visto che questi protocolli sono liberamente disponibili e giusto per darvi un'idea ecco il medico il PI dovrà firmare questo documento che è parte integrante del protocollo che dice che ho letto il protocollo ho letto l'investigator's brochure quando invece addirittura leggevo un articolo su una rivista specializzata che dice che il 3% dei medici legge l'investigator's brochure e di condurre la sperimentazione in compliance con il protocollo e le GCP e le normative vigenti ovviamente anche la dichiarazione di Helsinki e che non implementerà nessun cambiamento a protocollo senza chiedere eventuale precedente approvazione e soprattutto che supervisionerò tutti gli individui o le parti presenti all'interno dello studio a cui io delegherò le mie responsabilità quindi ecco questo è davvero molto importante purtroppo al momento ancora non vedo ecco un pieno coinvolgimento dei nostri PI in questo e quindi questo è un invito che faccio qui anche lo so che non è sempre molto facile a comunque delegare anche proprio il ruolo di principal investigator a medici che possono anche garantire di essere sul pezzo oltre che essere illuminare la key person del centro quindi e poi ovviamente sono d'accordo a mantenere la confidenzialità e a parlarne se ci saranno delle pubblicazioni eccetera a tal riguardo vi invito a vedere osservatorio covid19.it un progetto molto interessante dove si stanno pubblicando una serie di articoli proprio sul covid e sugli studi clinici sul covid allora tornando a noi quindi il centro deve dimostrare anche cioè non deve permettere essenzialmente deviazione al protocollo l'abbiamo letto anche nel documento che deve firmare il medico e eventualmente per poter implementare cioè per poter fare qualcosa che non va che va contro il protocollo lo deve prima chiedere approvazione scritta ecco in alcuni casi sono in alcuni casi possibile non chiedere accettazione dello sponsor quando ci sono modifiche logistiche amministrative tipo non so i contatti telefonici oppure c'è un rischio immediato per i soggetti perché non dimentichiamo che i GCP dicono che la prima cosa è il benessere e la sicurezza dei soggetti se la procedura che viene rotta è per salvare la vita del paziente e il medico agisce in buona fede può rompere può effettuare una deviazione al protocollo senza chiedere immediata accettazione anche se io consiglio sempre di chiamare il CRA o il medical monitor giusto per un doppio check ovviamente spiegando e documentando il tutto e poi una volta ci sarà una notifica ai vari comitati etici e allo sponsor ricordiamo che per quanto riguarda il prodotto in sperimentazione il PI è sempre responsabile dell'uso conforme al protocollo però all'occorrenza può delegare per esempio il farmacista o altra persona nel fare non so altre attività nella gestione del farmaco sperimentale ovviamente deve ecco questo è molto importante e soprattutto per i medici che ci sono in ascolto purtroppo poi succedono che delle grandi problemi cioè overdose oppure scarsa aderenza terapeutica è importante dare adeguate istruzioni al soggetto quando si dà per la prima volta il farmaco sperimentale e assicurarsi che il soggetto metterlo per iscritto anche aggiungerei anche se non è iscritto nel GCP e assicurarsi aggiungerei ulteriormente in base alla mia esperienza che quindi chiedere anche al paziente di ripetere il dosaggio oppure il processo in modo tale da essere certi che il messaggio sia passato cioè non basta dirlo ma anche anche recepire se effettivamente l'hanno l'hanno recepito cioè hanno compreso la posologia oltre che chiaramente metterlo per iscritto così che poi quando vadano a casa possono andare a rileggersi quello che le istruzioni per d'uso ovviamente è anche importante specie come non mai in questa epoca covid è importante anche l'aderenza controllare visto che il paziente molto spesso non viene così frequentemente al centro come dal protocollo magari controllare più frequentemente che stia aderendo alla terapia o che stia facendo un uso corretto del farmaco sempre per quanto riguarda i doveri del PI deve il PI deve eseguire le procedure di randomizzazione e aprire il codice di randomizzazione solo se necessario e va documentato le motivazioni di questa di questa azione fatta ecco altro documento importante non c'è un capitolo dedicato un po' come è successo per il protocollo per le B che c'è un capitolo dedicato nel GCP per il consenso informato c'è il punto 4.8 che tratta di consenso informato deve essere è un documento scritto datato e firmato e che essenzialmente dimostra l'accettazione volontaria del soggetto a partecipare allo studio e è importante che sia il soggetto sia obbligatoriamente informato prima di aderire allo studio dei potenziali rischi della sperimentazione e ovviamente ecco questo è molto importante anche deve essere approvato dal commentato etico prima di essere implementato presso il centro sperimentale e ogni modifica nel testo quindi quello che le lette dei lavori chiamano come emendamento al consenso informato deve essere preventivamente approvata dal CE prima di essere applicata e implementata nel centro ancora gli elementi necessari nel testo del documento per qui vi invito a ecco non vi ho detto che quando volete potete fare uno screenshot e quindi potete poi leggervi con più calma i vari requisiti richiesti dalle GCP non dimentichiamo che le GCP sono legge sono state incorporate nella legge del decreto ministeriale del 15 luglio 1997 quindi per legge sono necessarie oltre che poi ci sono diverse leggi italiane che riprendono il GCP e parlano di consenso informato ragione per cui appunto quel libro è molto comodo e utile per il libro delle normative per avere un'idea e avere tutte le normative dal 2001 ad oggi allora quindi questi sono gli elementi necessari nel testo del documento vado avanti su questo di fatto occorre molto spesso queste attività negli studi profit appunto vengono svolte dallo sponsor o dalla CRO quindi direi che andiamo avanti e ecco però è importante e qui il medico lo stadio coordinato a mio parere dovrebbe intervenire che il linguaggio non sia tecnico molto tecnico e comprensibile cioè che sia comprensibile dal soggetto dal legale rappresentante che ci sia adeguato tempo necessario per la decisione ecco tornando ad un punto precedente molto spesso mi sono ritrovato come obiezione dal comitato etico di spiegare bene cosa vuol dire screening ed è una domanda più che lecita non tutti sanno cosa vuol dire screening il tempo necessario per la decisione quindi adeguato deve essere il processo prevederebbe che appunto addirittura il paziente no addirittura il paziente va da casa si prende il suo tempo necessario e poi una volta chiaro che abbia tutti gli elementi che si è letto il consenso informato eccetera che si sono chiarite le possibilità di uscire dallo studio quando si vuole e che non è stata fatta nessuna incoercizione influenza sulla decisione di aderire al protocollo allora può firmare ecco e qui dall'altro lato dalla barricata chi deve poi controllare questi consensi informati vale a dire il C.R.A deve il C.R.A deve verificare che appunto tutte le procedure studio specifiche effettuate su quel paziente siano state fatte dopo la firma del consenso informato quindi ora dall'altro punto di vista deve essere fornito prima della partecipazione e in corso studio è importante fornire copie con eventuali modifiche apportate ora ci arriveremo meglio però intanto ecco una cosa importante specie per no ci sono i cosiddetti soggetti vulnerabili che per definizione della GCP sono quegli individui la cui decisione di offrirsi come volontari in uno studio clinico può essere influenzata impropriamente dall'aspettativa io ho sottolineato qualche esempio gli studenti di medicina personale subordinato in un ospedale o in laboratorio membri di forze armate detenuti pazienti affetti di malati incurabili sono di fatto dei soggetti vulnerabili perché per forza tra virgolette per forza di cose ecco devono cioè essendo l'unica terapia possibile questo quello dello studio clinico sono più la loro decisione ecco a partecipare alla sperimentazione non è la stessa di chi magari ha tantissime già terapie che magari funzionano e se qualcosa vi dice vi dice qualcosa nomadi rifugiati no quello che diciamo prima sui studi effettuati dai nazisti minori e quindi i minori sono di fatto dei soggetti vulnerabili e persone incapaci di dare il proprio consenso la prima cosa che viene in mente pazienti soggetti con problemi psichici quindi per quanto riguarda i soggetti vulnerabili ci deve essere una firma del legale rappresentante per intenderci per i bambini per i minori sono i genitori e la maggior parte dei casi fornire un documento informativo secondo le capacità cognitive è necessario appunto quello che per esempio per gli studi su minore viene chiamato assenso e quindi i soggetti vulnerabili firmano comunque è necessaria la firma di un documento per i bambini e i minori devono firmare un assenso per i maggiorenni comunque soggetti vulnerabili devono anche loro firmare un consenso informato se sono incapaci a leggere allora è obbligatoria la presenza di un testimone attenzione il testimone non è il parente del 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 paziente né tantomeno può essere un infermiere qui manca la parola chiave è un testimone imparziale quindi magari può essere il parente del del paziente del letto accanto che non è proprio coinvolto nel processo e ancora il le modalità descritte dal protocollo in caso di studi di emergenza primo fra tutti ora di questo di questa pandemia quindi della del covid-19 in questi casi se vedete i protocolli sul covid c'è la possibilità di cioè si parla appunto in caso in cui il paziente è in gravissime condizioni quindi non è in grado di dare di dare l'assenso al cioè la partecipazione il consenso alla partecipazione allo studio allora occorrerà specificare meglio che cosa succederà per esempio in alcuni casi ho visto che intanto occorre chiedere assicurarsi che i parenti siano stati informati e poi eventualmente si chiederà la prima del consenso appena il paziente si sentirà meglio Deborah nel frattempo chiede che verranno fornite le slide no però come vi dicevo c'è la possibilità di fare gli screenshot quando volete premendo sulla macchina fotografica ecco il consenso informato deve essere firmato e datato personalmente dal soggetto e anche da chi sottopone sottomette il consenso al paziente nota bene ecco chi somministra il termine più corretto nota bene deve essere un medico che deve informare il paziente il soggetto e è importante che ecco sempre nell'ottica di evitare l'effetto coercizione un po' come succede quando finiamo un contratto non so se vi sarà mai capitato però nel momento in cui chi sottomette il documento chi somministra il documento se già lo firma il medico prima del soggetto in un certo qual modo sta effettuando un'azione di di influenza sul soggetto quindi prima il processo ideale sarebbe che prima no sarebbe è che il soggetto firma e poi il medico controfirma è data altra cosa che non va lo so che i medici lo fanno per facilitare la vita a volte al soggetto magari viene in mente un paziente anziano che fanno inseriscono la data questo è un classico no di specie di chi non è così avvezzo a fare studi clinici inserisce la data anche per il paziente allora magari vedi che la data è scritta in una grafia bellissima e poi la firma è tipica del paziente tantenne tutta molto particolare ecco allora chiaramente quella cosa lì non va bene il medico non può inserire la data anche per il paziente ma occorre lì stare dietro al paziente e fargli firmare e datare a volte alcuni consensi richiedono anche l'ora proprio per dimostrare che le procedure studio specifiche sono state fatte dopo la firma e quindi anche il minutaggio della firma del consenso quindi importante una copia va poi data al paziente e o al legale rappresentante è una copia e l'originale va conservato presso il centro sperimentale allora ecco siamo quasi arrivando alla fine di questo di questo training il importante molto importante capire e stabilire le definizioni di source document e di source data per esempio per il gcp il source document sono quei documenti dati e registrazioni originali per esempio le cartelle cliniche le note di laboratorio radiografie fotografie supporti video eccetera e i source data invece sono quei documenti quei dati presenti le informazioni quindi presente all'interno dei documenti originali ecco da qui l'addendum alle gcp per quanto riguarda il secondo addendum se vogliamo alla fine per quanto riguarda la parte relativa al centro sperimentale questi sono i due addendum che appunto il pi deve dimostrare di monitorare anche eventuali parti terze che a lui sottoposte per fare per rispettare i servizi inerenti alla sperimentazione e poi anche questo ovvero i principi quelli che per esempio per intendersi qualche anno fa ormai dieci anni fa su Cerea Secrets ho pubblicato come i principi gli standard FDA dell'Alcoa gli standard FDA dell'Alcoa sono stati inglobati nelle gcp e quindi i dati e quindi lo sperimentatore deve mantenere la documentazione e le informazioni relative ai soggetti in maniera adeguata ed accurata e il source data deve essere attribuibile leggibile contemporaneo originale accurato e completo quindi questi sono degli standard le domande che dobbiamo porci sia che si deve porre al centro sperimentale nel momento in cui sta preparando sta descrivendo quello che succede al paziente e sia chi è dall'altra parte dell'abbaricata ovvero il clinical monitor che deve attestare di volta in volta il fatto che questi dati siano appunto attribuibili a qualcuno siano leggibili siano contemporanei originali e accurati e completi e ovviamente devono essere sempre in un numero adeguato per ogni soggetto l'essential document c'è un capitolo del GCP capitolo 8 che parla di essential document la definizione è ogni documento che riesca a valutare la conduzione di uno studio clinico e la qualità dei dati prodotti e dimostrano appunto la conformità dello sperimentatore dello sponsor del monitor agli standard di GCP a tutte le normative applicabili e per esempio possono esserci il che ci sono tre tipologie per il GCP l'essential document da produrre prima dello studio da produrre in corso di studio e post completamento o interruzione dello studio ecco e qui ci sono una serie di documenti importanti da produrre generalmente questi sono i documenti che vi chiede il CRA di firmare prima di partire con la sperimentazione e che servono proprio a dimostrare che il centro ha tutti gli elementi per poter partire mi viene in mente la cosa più importante direi anche soprattutto l'approvazione da parte del CE la lista ufficiale e la composizione del CE per dimostrare che non ci sia nessun conflitto di interesse in chi ha provato e in chi effettivamente svolgerà la sperimentazione e una serie di documenti l'autorizzazione quindi in realtà di fatto è un'autorizzazione c'è scritto documento approvazione però di fatto è un'autorizzazione dell'autorità regolatoria e il curriculum vite dei vari medici coinvolti ecco una cosa importante e tanti altri documenti ora è inutile andare proprio nel dettaglio su tutto però un focus ve lo vi chiedo di prestare attenzione a quei documenti che vi fanno firmare i miei colleghi durante le visite specie questi documenti appunto vengono generalmente richiesti dopo la prestati e alla SIV a più al massimo la SIV ma in realtà è prima della SIV della vista all'inizio studio ecco con la firma voi vi impegnate a diverse cose diciamo prima firmate il discorso di aver letto l'IB non solo averla ricevuta ma anche averla letta quando le statistiche dicono che il 3% dei medici legge l'IB il protocollo ed emendamenti idem documentazioni varie per i soggetti gli accordi eccetera quindi insomma attenzione al potere della firma e all'importanza di questa firma che apponete sui documenti per quanto devono essere conservati allora i GCP dicono due anni dall'autorizzazione dell'emissione in commercio in altre normative si parla di almeno sette anni dalla fine dello studio e il nuovo regolamento europeo attenzione attenzione se sarà mai approvato parla di 25 anni quindi è importante anche lì avere una chiara strategia per la conservazione di questi documenti ecco l'approccio è anche quello di aspettare comunque e questo ve lo dico perché è successo diverse volte di aspettare l'ok da parte dello sponsor prima di distruggere i documenti della sperimentazione ancora le ultime informazioni sono riguardo appunto la scheda raccolta dati la cosiddetta CRF ormai è elettronica nel 99,9% dei casi è importante che sia compilata in maniera precisa completa sia leggibile questo non è più applicabile per le CRF elettroniche e i dati siano tempestivamente riportati vi faccio presente che nell'investigator agreement che il medico firma generalmente si impegna per riportare i dati in base ai casi entro 5 o 10 giorni dalla visita quindi è importante rispettare queste tempistiche è importante anche che ci sia una concordanza tra i dati presenti nel source document e quelli riportati in CRF e eventuali discrepanze vanno spiegate mentre l'operazione giusto per completezza l'operazione di inserimento dei dati dai source document alla CRF viene chiamata electronic data capture è importante questo viene inserito in tutti i contratti oltre a essere presente nel GCP che su richiesta di monitor auditor comitato etico o comitato regolatorio il centro deve consentire l'accesso alla documentazione ok ovviamente è importante anche il discorso delle modifiche non solo della CRF ma anche del source document ogni eventuale errore deve essere fatto in modo tale da non cancellare il dato originale datare e siglare in modo tale di attribuire a qualcuno la paternità di questa modifica intendo la sigla non l'iniziale proprio la sigla che è una mini firma e puoi spiegare se necessario il perché della modifica e il monitor poi appunto dovrà verificare anche questo quindi nei compiti del monitor allora ultime informazioni su come informare gli altri attori della ricerca clinica quindi periodicamente occorre inviare dei report annuali al comitato etico allo sponsor il medico deve inviare eventuali report richiesti e al comitato etico e allo sponsor il medico deve riportare eventuali cambiamenti della conduzione dello studio o l'eventuale aumentato rischio per i soggetti quindi è comunque una responsabilità dello sperimentatore così come a fine studio di inviare appunto il report finale molto spesso se ne occupa la CRO o lo sponsor per questo però di fatto è una 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 cosa importante che di cui lo sperimentatore deve assicurarsi che sia stato fatto ecco gli ultimi le ultime informazioni sempre riguardanti la sicurezza riguardano intanto la definizione di evento avverso cioè qualsiasi episodio sfavorevole di natura medica che si verifica in un soggetto dopo l'inizio dello studio non necessita cioè attenzione l'evento avverso non è correlato necessariamente al alla patologia cioè o meglio al farmaco in studio chiedo scusa quindi non è a volte la classica obiezione no dico come stanno i pazienti ah tutto bene poi magari vedo vedo nel nel source document ho dato un howling oppure un ibuprofene e che è successo ah no ho avuto un mal di testa ma nulla di che non l'ho inserito in CRF perché alla fine non è correlato al farmaco non importa cioè va comunque inserito nella CRF e va riportato scritto nel source document proprio perché è importante che tutti gli eventi avversi siano riportati e raccolti per quella sperimentazione può essere anche un valore fuori da range di laboratorio per esempio va indicato non so elevati livelli di di HDL o meglio forse di LDL quindi altra definizione adverse drug reaction sono le risposte nocive e non volute ad un prodotto medicinale ad un qualsiasi dosaggio e quindi qui potrebbe esserci una possibile correlazione quindi va va appurata con il farmaco sperimentale e mentre le unexpected adverse drug reaction sono reazioni avverse non corrispondenti alle informazioni presenti per esempio in l'IB o se il farmaco è stato già approvato cioè ha già autorizzazione di emissioni in commercio nel foglio illustrativo esistenti sul prodotto e infine come dire una delle regole auree della ricerca clinica no la definizione in un qualsiasi corso di ricerca clinica credo che vada a inserire questa definizione quella del SAE Serious Adverse Event che qualsiasi manifestazione clinica sfavorevole che qualsiasi dosaggio sia fatale mette in pericolo di vita richiede ospedalizzazione o prolungato prolungamento di ospedalizzazione porti invalidità o incapacità persistente o significativa sia un'anomalia congenita e ovviamente poi ci sono in alcuni protocolli anche ulteriori definizioni di eventi avversi di special interest oppure eventi avversi seri di special interest ecco la cosa importante è che il medico deve riportare questi SAE appena possibile le GCP dicono immediatamente ma noi sappiamo diciamo entro 24 ore da quando si viene a conoscenza dell'evento avverso serio è importante ovviamente specie non so in caso di morte quando del paziente in cui c'è una maggiore attenzione sulla documentazione riportare il codice univoco del soggetto e non il nome e cognome altrimenti rientriamo nel cosiddetto capitolo di privacy breach e quindi anche per quanto riguarda gli eventi avversi come vi dicevo va segnalato anche i valori fuori dal range di laboratorio vanno segnalati come minimo come evento avverso ecco l'ultima l'ultima slide riguarda la conclusione anticipata la sospensione dello studio il medico deve informare prontamente i soggetti e assicurare che ci sia un piano di come dire di recupero nel senso mi è successo tante volte che la traia è stato sospeso perché il farmaco non era efficace o peggio ancora non era sicuro e quindi occorre che il centro informi immediatamente tutti i pazienti che partecipano allo studio chiedendogli di interrompere la terapia sperimentale e magari cercando di assicurarsi che prenda una terapia diciamo quella attualmente in uso per per curare la patologia se richiesto informa autorità regolatoria se questa ecco conclusione anticipata non ha un previo accordo con lo sponsor allora ovviamente informa sponsor e commentato etico se la richiesta arriva da parte dello sponsor allora informa con motivazioni il commentato etico o se l'introduzione da parte del commentato etico un po' più raro a mio parere però magari qualcuno mi dirà se ha esperienze in questo senso allora informa con motivazioni lo sponsor c'è a dire ecco che in questi in questi due casi molto spesso appunto c'è la CRO dietro che che informa per conto del PI il lo sponsor cioè il commentato etico ecco bene allora siamo arrivati al termine di questa di questa presentazione sulle good clinical practice ringrazio il dottor Cosimo Neglia corsista del missione CREA ma anche collega Lisbem e ora study coordinator a Parma e il collega Luca Giordano che ha rivisitato sistemato la quanto inizialmente fatto da 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 Cosimo Neglia e giusto per ecco riderci su oggi dai colleghi del team internazionale di cui faccio parte ecco mi è arrivata questa email allora l'ho inserita giusto come no come reminder questo è per i detti lavori che dice sì e quindi allora mi stai dicendo che no prima di chiedere non hai non hai controllato il protocollo ovviamente molto spesso la risposta del medico è no però quindi non fatelo a casa nel senso prima è importante che il medico lo stato di coordinamento si informi e tutto la risposta non è nel vento come dice una famosa canzone ma è nel protocollo o nelle GCP e poi quest'altra ecco quindi alcune ma non è sempre così quindi alcune risposte sono nel protocollo ma altre sono anche nel sistema dell'IvRS ma alcune possono essere trovate solo al di sotto di questo bicchiere perché e questo è anche vero a volte veramente venirci a capo non è sempre facile bene allora prima di arrivare alle domande la sessione domande risposte siamo perfettamente nei tempi con mia gioia e come scaricare il certificato di partecipazione se sei in diretta oggi attendi l'email automatica del sistema segui il link indicato nell'email o in alternativa vai su formazione farmaceutico punto com e iscriviti al videocorso ICHE6 tra qualche giorno per chi non so tra qualche giorno vede questo video troverà il videocorso già su al link gcptraining.it quindi scrivendo sul browser gcptraining.it arriverete direttamente al corso sulle gcptraining.it e complete il questionario di fine corso già presente e premi su complete e continua finché in automatico comparirà il certificato pronto per il download ti ricordo di non utilizzare internet explorer ma chrome oppure firefox e se hai piacere puoi inserire questo certificato comunque il fatto che hai seguito questo corso su linkedin se non l'hai fatto a proposito ti chiedo di chiedermi il collegamento mi trovate come Stefano la gravinese e c'è la fotografia che vi ho fatto vi ho mostrato prima come fotoprofilo e in licenza certificazioni scegli come provider formazione farmaceutico.com e inserisci come titolo del training ICHI6R2 GCP investigator site personal training se stai vedendo questo corso su formazione farmaceutico è più facile vai avanti nella prossima sessione e poi premi su completo e continua e anche qui potrai scaricare il certificato e potrai aggiungere anche liberamente su linkedin questa certificazione presa se hai problemi nel download magari scrivi anche magari chi ci segue da facebook o da youtube oggi può scrivere su academy chiocciola cera secrets punto com per avere assistenza è importante completa la survey per noi è molto importante per chi è in diretta appunto al momento in cui chiuderemo questa survey si aprirà un pop up mentre per chi lo vede su formazione farmaceutico la prossima sessione vi chiederà di lasciare un vostro feedback a riguardo eccoci qui su alcuni corsi consigliati sono tutti gratuiti questi consigliati quindi per chi quel 40% forse di chi non era già del settore vi invito a partire da questi due corsi ora a causa della pandemia covid abbiamo virato tutti i corsi residenziali sul online con mia gioia anche con tramite grazie ai colleghi di Ghea siamo arrivati a circa 900 corsisti formati è un risultato di cui sono estremamente orgoglioso forse posso dirlo forse nel mondo nessuno ha mai formato più di 900 persone in ricerca clinica quando vado ai conveni internazionali e dico questi numeri tutti rimangono a bocca aperta e spero che insomma il fatto credo che il fatto che tutte queste persone abbiano seguito il corso vuol dire vuol dire tanto ecco sul sul corso ora abbiamo oggi c'era la collega Carla Polimeni che in diretta questa mattina ha fatto la seconda sessione della seconda edizione online e probabilmente ne programmeremo una terza a metà luglio e per cui abbiamo già dieci persone iscritte in lista d'attesa ancora giusto per avere un'idea quali sono gli sbocchi professionali delle missioni della CRA sono due corsi gratuiti vi invito a vederli e i ruoli da entry level nella ricerca clinica è molto importante per avere idee chiare se questo mondo può fare per voi oppure no il videocorso sull'osservatorio covid dove parliamo di questo progetto molto interessante ecco invece questi qua sono per anche l'osservatorio covid e per le addette ai lavori per le addette ai lavori anche questo videocorso per chi sta seguendo questo training ora su formazione farmaceutico avrete il link diretto ai vari videocorsi qui in basso sotto questo video quindi di volta in volta vedete un po' più giù e troverete il link questo è un training che ho fatto a seguito della partecipazione al simposio AIFA GCP dell'anno scorso un'esperienza molto bella ho fatto un summary e questo l'ho volutamente reso gratuito proprio per come dire permettere che queste competenze siano chiare a tutti e ancora l'ultimo webinar per la serie covid le nuove disposizioni AIFA quelle relative ormai sono del 7 aprile però molto interessante guardatelo e ancora l'ultimo webinar che ho fatto l'ultimo videocorso sulla data emina AIFA 564 per poter effettuare studi di fase 1 sapete che sono focalizzato sulla fase 1 con questa data emina AIFA ha dato la possibilità anche a quei centri che non hanno tutti i requisiti richiesti dalla determina AIFA 809 2015 di poter fare studi clinici l'importante è avere vi faccio un mini summary avere una terapia intensiva all'interno dell'ospedale e e poi vi ricordo il libro sulle normative sono circa 300 pagine e l'opuscolo delle GCP tascabili in omaggio fino a fine mese fino a fine mese per proprio per il GCP Day e siamo arrivati finalmente alle sessioni domande e risposte vediamo un po' le domande del pubblico sulle diapositive Deborah ho già risposto però rispondo già a Santina che dice è possibile rivedere il corso il corso certamente su GCP Training sarà possibile punto it sarà possibile rivedere questo videocorso quante volte vorrai e occorre registrarsi sulla piattaforma formazione del farmaceutico ma come questo training è gratuito Deborah chiede quanto costa il libro costa 30 euro più IVA e e quindi in omaggio avrete anche questo booklet sulle GCP l'ultima revisione ok allora il periodo dei 25 anni per la conservazione dei documenti è già in vigore chiede Deborah no non è ancora in vigore sapete spero che insomma il nuovo regolamento europeo è del 2014 ma di fatto ancora non si riesce a trovare una quadra e a implementarlo efficientemente in Europa e ogni anno rinviano di un paio di anni l'implementazione ora pare che abbiano detto che se non si riesce a implementarlo entro il 2021 se non mi sbaglio sarà abrogato e quindi i 25 anni si hanno richiesti nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo Alberto chiede vorrei qualche notizia in più in relazione allo stoccaggio del materiale biologico o genetico bene Alberto se hai la domanda e la vuoi fare la vuoi fare falla pure ti consiglio di vedere il video corso e il training che inizia tra qualche 30 minuti circa 35 sullo IATA training IATA molto spesso durante missioni al cereale dico che ci fa l'International Air Transport Association in un corso di alta formazione di ricerca clinica ci fa perché appunto sono dell'associazione internazionale del trasporto ha aiutato a dare queste linee guida e quindi il training si chiama IATA training IATA training punto it Sabrina dice grazie molto interessante grazie a te Sabrina un saluto da Reggio Calabria associazione Colone certo fa piacere che tra l'altro so che anche il mio corsista lavora da voi molto contento di farlo sentiamoci anzi per per eventuali collaborazioni a disposizione Sabrina e poi Jessica chiede come posso prenotare il mio posto per quanto riguarda il corso Crown Line che si trarà a luglio allora questo per magari questo lo mando a tutti per chi è interessato ecco c'è intanto un videocorso gratuito in cui spiego cosa facciamo in questo corso online quindi ora vi mando a tutti il link di riferimento che è www.missionecra.online arriverete a un videocorso dove vi spiego il tutto e vi spiego anche come prenotare il vostro posto a questo videocorso allora Alessandra chiede il PI può delegare allo stadi coordinator la gestione del farmaco sperimentale in temi di contabilizzazione e detenzione del reparto sì proprio perché come era scritto anche nelle slide e quindi le slide sono tratte della IGCP non dimentichiamolo può delegare il farmacista o un'altra persona parlava cioè vi do il wording preciso giusto per per quanto riguarda il farmaco sperimentale dice una persona delegata vediamo 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 foto sperimentale o ecco o altra persona competente e direi proprio che lo stato di coordinator è una persona competente nel farlo quindi Alessandra sicuramente sì ok direi che ci siamo se se non avete altre domande vi ricordo i prossimi appuntamenti di oggi sempre per il GCP dei 2020 e alle ore 17 su iatatraining.it ora vi mando vi mando il link a tutti così iatatraining.it così lo potete vedere eventualmente partecipare ripeto anche lì abbiamo raggiunto un numero massimo consentito però molto probabilmente visto che sta funzionando l'approccio della dieta Facebook o YouTube faremo anche questo approccio Luca per caso c'è qualche commento domanda sui vari social hai visto per caso ok perfetto e poi vi ricordo l'altra diretta questa volta siamo solo in diretta Facebook o YouTube storia della ricerca clinica dal 3000 avanti Cristo ad oggi secondo me a maggior ragione per gli addetti lavori potrà essere interessante ci sono delle curiosità molto carine da di cui parlare bene allora direi che ISF digitale quando dice Marco allora torniamo alla sessione alla sessione domande risposte dice ISF digitale chiede Marco quando probabilmente già i GCP hanno nuove GCP stanno tra virgolette come dicono gli inglesi pavimentando la strada a questo c'è già il trial master file digitale e secondo me arriveremo anche all'ISF che per chi non è del settore ISF sta per investigator site file e sono qui il faldone della sperimentazione clinica speriamo bene Marco Marco che tra l'altro ci conosciamo già è giusto fammi sapere se sei quel Marco che conosco ok Giuseppina chiede grazie aspetto l'email Elisabetta chiede informazione del farmaceutico quali corsi consigli per la figura dello stadio di coordinato ecco allora c'è visto che ci sono diversi so che ci sono diversi colleghi del gruppo italiano data manager l'associazione di cui sono orgogliosamente socio c'è l'intervento della della presidente di Celeste Cagnazzo cercate stadio coordinator OCR C su formazione del farmaceutico c'è un interessante intervento di Celeste e coming soon l'ho registrato ma ancora non l'ho pubblicato anche l'intervento dell'altro collega di Stefano di Stefano Stabile quindi guardate su formazione del farmaceutico ho cancellato una domanda per errore purtroppo che io scusa chi l'ha fatta se non ho risposto se la vuole rifare e poi Giuseppe eccolo Giuseppe sempre dell'associazione dice grazie Stefano un ripasso del GCP non fa mai male assolutamente no grazie a te e anche grazie a Giuseppe l'altro Giuseppe chiedo scusa ho visto un messaggio ma l'ho cancellato visto che non l'ho letto e lo vuoi riscrivere chiunque tu sia sarò ben lieto di leggerlo o di rispondere Alessandra chiede il PI può controfirmare una visita di un paziente di studio effettuato da un medico che non è in stato era questa la domanda questo è grazie grazie Luca sempre presente sempre sul pezzo allora Luca Giordano referente dell'Academy allora il punto è classico dipende dal tipo di visita cioè se la visita è una vista di routine che il paziente avrebbe dovuto fare per perché non so per linee guida della della società europea di cardiologia ogni anno devi fare questa visita allora è un conto se durante la visita stai facendo delle procedure studio specifiche allora purtroppo non va proprio bene nel senso che deve essere nel delegation log dicevamo prima l'importanza della firma che tutti i medici e lo staff appongono che tutti i membri dello staff appongono sul delegation log e proprio a certificare la loro consapevolezza di quello che fanno il PI non cioè dovrebbe aver formato in teoria lo staff anche il medico del che mi rendo conto che poi dal dire al fare è chiaro c'è un mare in mezzo e succede è successo è comunque una deviazione al protocollo in quanto il medico non era formato motualmente per fare quel tipo di attività quindi il mio consiglio è intanto di rendere più cioè di inserire nel delegation log quante più persone possibili ovviamente nel limite del possibile senza arrivare a 20 medici che poi diventa un problema gestirli 20 medici anche la formazione eccetera però intanto inserirne quelli che sono più frequenti e all'occorrenza appunto in modo da rispettare questo requisito ok parlo di vista di studio e allora Alessandra mi spiace proprio no cioè non ha perché non ha la delega faccio l'approccio degli auditor della serie te lo dovevo dire ecco questo è quello che direbbe un auditor quindi il punto è questo il dobbiamo necessariamente assicurarci che quel medico sia indicato nel delegation log e a mio parere non basta una controfirma da parte del 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 pi piuttosto se proprio vogliamo tra virgolette attaccare una pezza a questo a questo discorso cioè fare fare un cosiddetto not to file in cui si spiega la situazione come minimo per giudicare per giustificare questa quanto è successo che non è in linea con il protocollo gcp bibbie e varie bibbie varie ed eventuali normative eccetera ok bene allora se non ci sono altre domande vi ringrazio per la partecipazione a questo a questo live training vi chiedo di completare la survey finale per noi molto importante eventualmente di autorizzare anche il trattamento del vostro nome e cognome da poter inserire come testimonianza no su formazione farmaceutico credo che no il training questo training essendo gratuito insomma spero davvero in una vostra come dire in un vostro ricambiare in questo fornendo una testimonianza di come a cosa vi servizio questo corso vi chiedo anche di condividere questo corso gcptraining.it con quei medici stati coordinatori che necessitano di una formazione adeguata in compliance con il Transcelerate e quindi questo è il classico DCP training che lo sponsor vi chiede per dimostrare che sapete di che cosa stiamo parlando ecco e credo di aver dato tutti gli elementi base per come dire rispondere a questa finalità bene grazie ancora a tutti e grazie a chi ci segue anche da dai social grazie Laura grazie Silvia che dice grazie molto ben fatto mi fa piacere che l'abbiate apprezzato e alla prossima e cioè tra 20 minuti ciao e continuiamo con questa diretta del DCP Day che mi sta molto piacendo ciao e a presto io mi ho già rilassato un attimo ma invece no non non mi posso rilassare perché c'è anche la diretta la diretta Facebook che richiede il suo il suo il giusto come dire un minimo di attenzione almeno quindi grazie anche a voi chi ci sta seguendo su Facebook su YouTube spero che sia stata una bella sessione a breve partiremo anche con lo IATA training ciao e a presto ah ecco avevamo alcune domande no non solo a Laura che dice Laura grazie buongiorno a tutti ciao Laura Laura Martena altra collaboratrice mia collaboratrice e nonché del team di Clean of Sub Paola che appena si è appena diplomata dalla Clinical Research School insomma grazie grazie ah no ancora tanti altri dice Anita purtroppo si blocca e mi spiace eh mi spiace ragazzi vedremo vedremo come procede grazie a tutti a tutti grazie a tutti